Grazie a tutti. 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 Lo potrei rivedere. Ne fa uno ogni dieci, quindi è già un evento. Però è stato un gran gol. Per i diritti tv c'è qualcosa, avanziamo qualcosa? No, sono io che avanzo da voi. Va bene ragazzi alla prossima. Va bene ragazzi alla prossima allora. Grazie a tutti.